Mi sono reso conto che mancava un video sul mio canale di tutte le modifiche che ho apportato al mio iPhone Mi spiego meglio Come ben sapete quando comprate un iPhone e poi vi da disposizione degli strumenti vi dice per me è pronto così In realtà alcune cose a mio avviso possono essere modificate per svariati motivi Sia perché magari c'è una migliore accessibilità, sia perché magari si risparmia un po' di batteria Per la produttività Insomma i motivi possono essere veramente tanti Ecco perché voglio mostrarvi in questo video come ho praticamente configurato gli aspetti principali del mio iPhone Quali modifiche ho apportato e perché E chissà magari queste informazioni potrebbero tornare utili anche a voi Ok la prima cosa che io ho fatto è stata quella di attivare iCloud Se non vi interessa la parte su iCloud magari saltate questa parte di video Altrimenti magari restate qui vi faccio vedere cosa tengo attivo Andando qui appunto nelle impostazioni iCloud Qui abbiamo la lista di tutto ciò che tenete salvato sul vostro Cloud Allora io ho un abbonamento da 2TB in questo momento E qui ho un riepilogo di tutte le info Quindi quanto spazio occupano le foto su iCloud Se uso iCloud Drive eccetera eccetera Non ho una mail iCloud quindi io non tengo configurata una mail da iCloud O Gmail o le PEC Ma non ho creato l'indirizzo iCloud Una cosa importante secondo me che dovreste sempre abilitare è Password e portachiavi In modo tale da poter avere tutte le vostre password salvate sempre con voi Anche se cambiate iPhone Anche se andate su iPad Anche se andate su Mac E le note Queste le dovete secondo me sincronizzare sempre E le foto naturalmente l'ho dato per scontato Il resto dipende un po' da voi Io uso molto iMessage Quindi mi piace anche sincronizzare i messaggi L'app salute Visto che utilizzo anche molto il mio Apple Watch per allenamenti eccetera Con ripreso da poco E' importante per me condividere tutti i dati E queste sono tutte le cose che io tengo praticamente condiviso Mi sono sempre dimenticato di togliere qualcosina Non uso l'app borsa Quindi non mi serve E ho semplicemente tolto l'app borsa dalla sincronizzazione E quindi sono andato a rimuoverla Fatevi una bella controllata di questa lista Guardate alcune cose già disattivate Di cosa volete salvare o no Sul vostro account iCloud Perché ci sono anche delle applicazioni E tutti i loro dati Backup di iCloud naturalmente Tenetelo attivo E qui vedrete anche quanto è grande il backup del vostro iPhone E torniamo indietro E andiamo un po' a vedere adesso le vere impostazioni Quello che ci interessa Allora Iniziamo da generali Info Può sembrare banale ragazzi Ma voi dovreste modificare il nome del vostro iPhone Per un motivo molto semplice Potete anche facilmente identificare il vostro iPhone Con il nome magari durante un'operazione che può essere Airdrop o simili Questo è il mio iPhone 16 Pro Max E l'ho chiamato iPhone 16 Pro Max Però che succede se voi avete cambiato iPhone E quindi passerete non solo al 17 Pro Max E vi dimenticate di cambiare il nome Quando trasferite tutto Il nuovo iPhone verrà chiamato iPhone 16 Pro Max Quindi state attenti perché se avete effettuato un passaggio Vi consiglio di cambiare il nome del vostro iPhone E adesso andiamo in aggiornamento software Perché io qui vi consiglio di tenere attivi gli aggiornamenti automatici Ma non attivare quelli beta Questo perché gli aggiornamenti beta Sì vi danno le ultime novità prima degli altri Ma a volte non funzionano in modo giusto In modo stabile per un iPhone Che è quello vostro di tutti i giorni Quindi app di banca Applicazioni importanti Potrebbero non funzionare bene O potrebbe esserci un problema di batteria Non attivate gli aggiornamenti beta Scorriamo adesso in aggiornamento app in background Ok Qui c'è da fare la solita precisazione Cosa significa questa schermata? Ve lo spiego un'altra volta perché non lo capite E comprendo anche che può creare confusione Se voi disattivate un'app Come in questo caso Instagram Ma come vedete io la tengo attiva da sotto Non significa che Instagram da sotto non funziona Anzi funzionerà Se devo ricevere delle notifiche Mi arriveranno Questa disattivazione significa solo Non caricare il contenuto in background Ovvero se su Instagram adesso vedete C'è questa immagine in anteprima E per lui è il mio nuovo contenuto Resterà quello Solo nel momento in cui io aprirò Instagram Mi verrà caricato il feed Chiaro? Invece se avessi avuto questa opzione attiva Mi caricava in background sempre Diciamo il feed E quindi mi consumava più energia Questo E solo a questo Serve questa schermata Quindi a evitare di Caricare in background Dei contenuti Che verranno caricati solo quando aprite l'applicazione Ecco anche uno dei motivi per cui Io a volte consiglio proprio di fare Così Per risparmiare batteria Perché tanto continueranno a funzionare Tutte le app Compresa Whatsapp Non vi preoccupate Adesso andate all'inserimento automatico E password Perché qui è importante Impostare un po' di cose Per me dovete avere sempre attivo L'inserimento automatico Ma soprattutto Questo Elimina Dopo l'uso Quando ricevete per messaggio Per email Un codice Sapete Quelli temporanei Da inserire iPhone automatico Dopo che l'ha inserito Vi cancellerà il messaggio O vi cancellerà l'email Quindi Vi tiene pulito iPhone Fatelo Perché è molto comodo Adesso torniamo indietro E spostiamoci In Non vi dico Fotocamera Perché qua c'è veramente Tantissimo da dire Vi lascio anzi Il link O i miei link Meglio A tutto il discorso Che ho fatto Sempre sulla fotocamera E come impostare Tutte queste cose Quindi non ci torno Altrimenti Il video in questione Durerebbe 6 ore Andiamo in Schermata Home Libreria App Attenti qua Vedete questa voce Cosa serve Quando ho scaricato Una nuova app Dall'App Store Se fate come ho fatto io Non verrà installata L'icona Nella home Ma verrà installata Direttamente Qui Ovvero Nella schermata Libreria App Nella sezione Aggiunte da poco Se invece fate così E scaricate un'app L'icona verrà installata O meglio Verrà mostrata Anche Nella schermata Home Io invece Preferisco così E un'altra cosa Che non mi piace È Togliere il badge Delle notifiche Dalla libreria app Ovvero Guardate Qui non vorrei vedere Tutte queste notifiche Faccio così E Tac Non ci sono più Andiamo avanti In schermo E luminosità Io qua Non utilizzo niente Di scuro Automatico Tutta la questione Per risparmiare Un po' di batteria Bla 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 Perché veramente C'è poco Il true tone Non lo uso La luminosità È così Ma alla fine È automatica Non uso In light shift Blocco automatico Lo tengo impostato A un minuto Ma soprattutto Tengo disattivato Alza per attivare Perché A volte anche In modo compulsivo Se voi vedete Lo tenete attivo Prendete il vostro iPhone E lo alzate Guardate Si è attivato Da solo E io voglio evitare Questa cosa E quindi Tengo disattivata Questa impostazione Schermo sempre attivo Lo tengo Disattivato Perché questo Consuma Un sacco di batteria Infatti Tenendolo attivo Succederebbe questo Guardate Sempre l'orario Ma a me non serve Una cosa del genere Quindi Io Lo tolgo E risparmio Batteria E torno Indietro Tasto azione Beh Qua potete Potete scegliere Voi cosa impostare Io ho impostato Al momento L'applicazione Traduci Ma è una scelta Molto personale Andiamo adesso Su notifiche E qua vi consiglio Notifiche Personalizzate O meglio App per app Scegliete se riceverò O meno Delle notifiche Tipo Alibaba Ho messo no Ad altre ho messo tutto E qui ho messo solo banner Insomma Scegliete voi Come personalizzare Le notifiche E lo potete fare Da così Vedete Poi scegliete Che tipo di notifiche Ricevere Dove Come Eccetera Eccetera Impostatelo Soprattutto Per magari Non so App come Whatsapp Se non volete Ricevere le notifiche Nella schermata di blocco Ma solo nel centro Di notifiche Insomma Potete gestire Un sacco di cose E soprattutto Guardate Se un'app Non si vede In Carplay Controllate sempre Se è attiva Questa voce Altrimenti Non vedrete In Carplay L'applicazione Andiamo adesso In suoni E feedback Aptico Allora Naturalmente Qua vi consiglio Di tenere attiva Questa voce Perché altrimenti Guardate Se avete un iPhone Con il tasto Appunto Azione E quindi Il tastino Relativo Al silenzioso Se voi togliete Questo Non sapete Se siete in silenzioso O no Dunque tenetelo Sempre Attivo Feedback Tastiera Io ho solo suoni Non metto Aptico Perché La vibrazione È stupenda Bellissima Ma mi sono accorto Che consuma Un bel po' Di batterie Quindi Non la tengo Attiva Tutto il resto È attivo Come vedete E torniamo Indietro Passiamo adesso A tempo di utilizzo Dovete stare bene Attenti a quello Che fate qui Io non lo tengo Attivo Il tempo di utilizzo Può tornare utile Ma spesso La gente dimentica Il codice E succedono disastri E quindi Va resettato Tutto Ma soprattutto Restrizione Contenuti E privacy Qua Disattivate Questa voce Non la tenete attiva Perché se non sapete Cosa state facendo Combinate casini Come ad esempio Non poter più modificare Il vostro ID Apple Eccetera Eccetera Quindi Tenete disattivata Quella voce Che state tranquilli Non succede nulla Andate in Face ID e codice Ora Occhio a quello Che vi sto per dire Perché Dovete capirlo bene Allora Protezione del dispositivo rubato No Perché Questo è vero Che vi dà Un ulteriore Posso dire Grado di sicurezza Nel caso in cui Perdete il vostro iPhone Ma se attivate Questa voce Anche per a volte Operazioni un po' più banali Vi viene richiesto Più volte il codice Di essere in un luogo sicuro E noto Eccetera Quindi State bene attenti Se attivarla o meno Io sinceramente La tengo disattivata E Vi invito A stare attenti Ripeto A se attivarla o meno Perché è una scelta Molto personale Andiamo adesso In privacy e sicurezza Perché innanzitutto Tracciamento Ho disattivato Tutto Vi consiglio di farlo Così nessuna app Vi traccia Localizzazione La tengo attiva Io non capisco Chi dice che bisogna Disattivarla Senza la localizzazione iPhone funzionerebbe All'80% In me Quindi Non servirebbe veramente A nulla Anche in caso Di smarrimento di iPhone Non lo potreste neanche localizzare Quindi Non ha molto senso Disattivare la localizzazione A meno che Non è un Momento Particolare In cui dovete farlo Ma ripeto Non lo farei mai Piuttosto Sceglierei da queste app Quale deve utilizzare La mia posizione E quale invece No Ad esempio Io L'app di Echovax Ho impostato Non deve mai Usare la localizzazione Mentre Non so Anche Google Photo Mentre ad esempio Google Maps Ne ho bisogno E quindi È sempre attiva E addirittura Anche posizione esatta Qui in basso Servizi di sistema Non toccate nulla Io ci ho fatto Un sacco di video È vero Per risparmiare Qualcosina Eccetera Ma a volte Voi andate A togliere cose Poi qualcosa Non funziona E alla fine Il problema Era qui Sparmiate poco Quindi veramente Tenetevi attiva Queste voci Le uniche Che potreste togliere Sono queste Tutto qua Miglioramenti Del prodotto Che sono degli analisi Che vengono mandate Ad Apple Quindi non diciamo Influiscono Sull'utilizzo dell'iPhone Se volete Disattivare Qualcosina Per risparmiare Un po' di batteria Di batteria Scusate Fate questo E qua È per l'icona Se la volete visualizzare O meno Ovvero Quando qualche servizio Sto utilizzando Appunto La localizzazione Voi toccate qui E quindi State capendo Se in quel momento C'è qualcosa Che sta cercando Di localizzare La vostra Posizione Torniamo Indietro Andiamo In basso E qua Vedete Trovate Quello che vi ho detto prima La protezione Di dispositivo rubato No Modalità di isolamento Ve lo spiegate In un video È una forma Dove A meno che non siete Il presidente Della repubblica O meglio Il presidente Proprio degli Stati Uniti Che quindi Il vostro iPhone Potrebbe essere Sottoposto Ad attacchi mirati Eccetera Non dovreste mai Attivare Perché va a disattivare Tutto quello Che c'è da disattivare Su iPhone E avete un telefono Che serve soltanto A telefonare E basta Perché la navigazione Anche è molto castrata Qui invece Contenuti sensibili Soprattutto per app Come quelle dei messaggi Potresti attivarlo Soprattutto su un telefono Di un bambino Per evitare Che l'arrivo Di qualche foto Possa essere Diciamo Subito visualizzata Invece in questo caso Viene censurato Con un avviso E quindi Questo è veramente Importante Siamo quasi alla conclusione Perché ho lasciato Volutamente Alla fine due cose Cellulare Allora Qui c'è questa voce Chiamate Wi-Fi Chiamate Wi-Fi Su iPhone Perché ce l'ho io E magari voi Non ce l'avete Sul vostro iPhone Dipende dal vostro operatore A me team Mette a disposizione Un servizio Molto importante Vedete che io Non ho rete Dati Quindi non ho campo Non potrei telefonare E ne ricevere chiamate Grazie a questa opzione Io posso ricevere Chiamate E telefonate Normali Quindi non per forza Da Whatsapp Ma una semplice chiamata E anche effettuarle Perché in automatico Viene effettuato Uno switch Sulla rete Wi-Fi È una funzione Che deve darvi Il vostro operatore Quindi informatevi Se ce l'avete Ma banalmente Se c'è Sul vostro piano di rifiaro Troverete questa voce Chiamate Wi-Fi Altrimenti Se non c'è la voce Molto probabilmente Non ce l'avete O dovete attivarla Tramite operatore Concludiamo con la batteria Perché batteria Ragazzi Io qui Tengo attiva la percentuale Mi piace avere Il numerino E da in carica Io tengo attivo Il caricamento ottimizzato Con la carica Al 100% Dunque Questo è quello Che io utilizzo Non utilizzo 80 95 90 Eccetera Ma anche qui Ho già fatto un video Dedicato Alle impostazioni Della batteria Quindi Non ci voglio Tornare su Vi lascio Il link Magari Per approfondire Ed eccoci qui Con le conclusioni Ragazzi Come sempre Dubbi Domande Con un commento Io vi risponderò Se il video Vi è piaciuto Vi invito A condividerlo Anche con qualcun altro E iscrivervi Soprattutto Al canale Perché Stiamo per Intravedere I 100.000 iscritti E speriamo Di arrivarci Il prima possibile Perché sarebbe Una bella soddisfazione Personale Ci vediamo Molto presto Ciao 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 Ciao